Buongiorno a tutti, mi presento, noi siamo un allevamento amatoriale di Rottweiler, il nostro allevamento si chiama allevamento Rottweiler del casale Sinweiler, anzi, prima di tutto vi invito a riscrivervi sul nostro canale e poi se vi è piaciuto il video a mettere questo è il nostro Zeus, ha tre anni circa, ha il pedigree, un patatone buono, invece quella è la nostra Maia, riprendi Maia? Maia, ha tre anni anche lei circa, guarda che bella è, adesso la leggo perché non riesco a gestirli tutti assieme Ogni tanto se mentre fai il video fai pure qualche foto in automatico E' seduto, Zeus, seduto, seduto, allora, allora LuTogliel, ancora una. Vieni, su. la raffa andiamo 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 adesso le dico andiamo non rompono il palo ok mettiamo maia facciamo il giro con maia finita maia fermo l'izeus riprendo un attimo lui e pure qualche foto mentre fai il video andiamo 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 risentiamoci un attimo vediamo seduto? seduto? bravo bravo facciamoci verso seduto Zeus? seduto? vediamo che foto quasi vi ricordo che se vi piace il video mettete mi piace e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati vediamo dai